Prendete i gomitoli! Questa è arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te Prendete i gomitoli ragazzi perché oggi cominciamo a fare tre decorazioni di lana facilissime Siete pronti? Prima però venitevi ad iscrivere su Instagram e taggatemi con l'hashtag Arte per te video con le vostre creazioni per essere portati qui in video qui sul canale A fine video vedremo chi è il fortunato di oggi Dopodiché venitevi ad iscrivere su Facebook quindi cliccate qui su Instagram se non siete ancora iscritti Io lo do per scontato sempre ma se non siete iscritti andate a controllare Cliccate su iscriviti e subito dopo sulla campanella non vi si consumerà il mouse giuro Così verrete aggiornati su tutti i video di Arte per te Oggi il video è veramente divertente Tre bellissime decorazioni di Natale con la lana E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa Ed ecco l'occorrente per le nostre decorazioni in lana Un gomitolo di lana, io ho scelto il colore rosso Più grande sarà il filato, meglio verrà Una pallina di polistirolo e un paio di forbici Pistola per colla a caldo e relativa a stecca E cominciamo con la decorazione numero uno Tagliamo un pezzo di filo di lana e incolliamola con la colla a caldo In un punto qualsiasi della pallina che diventerà la sommità superiore Togliamo l'eccesso di lana Quindi sporchiamo proprio accanto all'occhiello che abbiamo creato E incominciamo ad avvolgere appiccicando proprio lì il capetto della colla Stando attenti a non bruciarci In maniera continuativa e concentrica lungo tutto il corpo della pallina Giro dopo giro assicurando la lana con un puntino di colla qua e là Ogni tanto, come vedete, do un puntino e continuo a girare Fate così per tutto il corpo della pallina Picchettate per fare aderire bene la lana sul polistirolo E piano piano eliminate le tracce di colla a caldo E i rimasugli che si vengono a formare inevitabili Quindi piano piano continuate il lavoro E in men che non si dica la vostra decorazione apparirà sotto le vostre mani Ovviamente potete fare la pallina in diversificati colori Potete farla strisce alternando i colori della lana Bianca e rossa, verde e rossa Come vi pare Assicurate il capetto in fondo al corpo della pallina E voilà, la decorazione è bella e pronta Per il vostro albero di Natale morbidissimo e caldissimo Potete anche impreziosirla con fili luminosi Oppure con fili di paillettes Insomma, sbizzarrite la vostra creatività Io invece questa la lascerò un pochettino più semplice Ma vedete, basterà avvolgere dei cordoncini luminosi Per dare un aspetto molto più glamour alla vostra pallina Ed ecco qui la nostra prima decorazione finita Ed ecco l'occorrente per la seconda decorazione Lana, nel mio caso rossa Forbici, un pezzo di cartoncino Due amabiz, due pisla, due corallini termofusi O due perline del colore natalizio che preferite Una penna o una matita E due spiedi di legno Due bastoncini per fare gli spiedini Insomma, cominciamo subito Disegniamo un bel cuore su un cartoncino Fatelo bello paffutello Non troppo alto, ma piuttosto largo Ritagliate la sagoma E cominciate ad avvolgere la lana Tutta attorno alla sagoma di cartoncino Mettete un punto di colla a caldo E così, come si fa con i normalissimi gomitoli tondi Cominciate ad avvolgere la lana tutto attorno Stando attenti a marcare Quindi ad avvolgere con maggiore pressione Lì dove c'è l'anza del cuore E a lasciare anche bene in evidenza La punta sporgente del cuore Prima di cominciare ad avvolgere però Ricordatevi di preparare l'occhiello E allora, occhiello fatto Capetto assicurato al corpo del cartoncino E cominciamo ad avvolgere Seguendo le raccomandazioni di cui vi ho detto prima Andate un po' in verticale Un po' in trasversale Un po' in orizzontale Variate il verso dell'avvolgimento Dopo un po' che avvolgete in un senso Questo darà proprio il senso del gomitolo E della morbidezza della lana Quando sarete soddisfatti della cicciosità Del vostro pendaglio in lana a forma di cuore Non dovete fare altro che assicurare Il capo di lana all'interno del gomitolo Che avrete creato E fermarlo con un punto di colla a caldo A questo punto vado ad impreziosire il mio gomitolo a forma di cuore Con due ferri per il lavoro a maglia Prendo gli spiedi Li taglio alla lunghezza che ho deciso di fare I miei ferri Quindi li metto uno accanto all'altro Per tagliarli della stessa lunghezza Poi li spezzo E all'apice di ogni spiedo tagliato Andrò ad apporre uno dei miei corellini di plastica Quindi un punto di colla a caldo E infilo la perlina Così potete farlo anche con delle perline tonde Queste ci stanno benissimo Perché proprio il buchino È il perfetto alloggio per lo spiedo Come vedete E quindi il lavoro viene rifinito e pulitissimo Voilà Piccolo ferro pronto Facciamo il secondo E adesso andiamoli a infilzare nel gomitolo di lana Facendone una composizione che si è gradita al nostro occhio Viene fuori una decorazione veramente calda Carina e coccolosa Da appendere all'albero di Natale Decorazione numero 3 Ci occorrerà del fil di ferro Vi consiglio un fil di ferro Dal diametro di 2 mm 1,5 mm Non di più Quindi ci occorrerà anche della lana rossa Un paio di forbici Pistola per colla a caldo E colla a caldo Prendiamo il fil di ferro E assicuriamo il capo della lana al suo apice Quindi con movimenti rotatori Avvolgiamo la lana Tutto attorno alla lunghezza del fil di ferro Il mio fil di ferro è lungo circa 50-60 cm Ma non vi preoccupate perché potete tagliarlo anche successivamente Questa operazione di avvolgimento Va fatta assicurando la lana ogni tanto con la colla a caldo E soprattutto va fatta ripassando avanti e indietro per due volte il filo In modo da creare un salsicciotto come vedete così paffutello Alla fine assicurate il capo finale con un po' di colla E tagliate in disavanzo un 50 cm di filo Quindi ecco il nostro salsicciotto tutto ricoperto Dalla parte del disavanzo Cominciamo a fare le pieghe Che creeranno una bellissima stella Prendiamo un righello E prendiamo la misura a 4 cm Vedete? Così Quindi pieghiamo Voilà Quindi riprendiamo una misura di 4 cm E ripieghiamo il fil di ferro Tac Dobbiamo fare una serie di zig zag a 4 cm Che creino 4 speroni a punta Quindi 4 cm E continuiamo 4 cm e pieghiamo dall'altra parte 4 cm e pieghiamo ancora dall'altra parte E man mano come vedete verrà fuori la nostra stellina Arrivati a questo punto Avremo una, due, tre, quattro punte Che dovremo allargare Per creare appunto Le varie punte della stella Ce ne rimarrà una aperta Che dovremo far congiungere noi Unendo i vertici Uno lato sarà più lungo dell'altro E questa lunghezza in disavanzo Ci servirà per fare l'occhiello della stella Quindi innanzitutto accostiamoli Quindi arrotoliamo su se stesso il disavanzo E creiamo l'occhiello da cui la stella verrà poi appesa Quindi con un punto di colla chiudo dapprima l'occhiello Una volta che ho preso la misura del lato E con un altro puntino di colla Adagio le due estremità aperte Che poi faccio coincidere Per sempre insieme Avvolgendo il laccio in disavanzo Attorno Al punto di unione Delle due estremità Così Finito il laccio Faccio un bel nodo E lo fisso con un punto di colla a caldo Per appendere la nostra stella Poi basterà inserire un filo di lana All'interno dell'occhiello E sarà pronta per essere appesa sul nostro albero Non prima però Di aver sistemato benissimo Tutte le punte Una bellissima stella Calda Colorata E fatta assolutamente a mano Tre decorazioni facili E low cost Veramente Con i rimasugli di lana E qualche altro piccolo accorgimento Potrete avere un albero bellissimo Vi lascio alle foto E ci vediamo subito dopo Visto che belle le nostre decorazioni di lana Non sono bellissime Tutte rosse Voi fatele dei colori che preferite naturalmente Prima di salutarvi però Voglio salutare una di voi Che mi ha taggato su Instagram Con l'hashtag Arte per te video È Lisa Amperla Eccola qua Con i suoi paesaggi in pietra Stupendi Lisa Complimenti Complimenti davvero tanto Grazie per avermi taggata E complimenti per il tuo lavoro Davvero delizioso Bene ragazzi Basta parlare Se questo video vi è piaciuto Pollice in su Condivisione sulle vostre pagine Facebook Ci ritroviamo sempre qua Per un prossimo video Natalizio Ed ombretta Ed arte per te È tutto Alla prossima volta Ciao